Raghi, io e Roby ci siamo sfidati a chi risponde alle domande con la parola più lunga Secondo voi chi ha vinto? Scrivetemelo nei commenti Raghi, oggi e Roby ci sfidiamo a chi risponde con la parola più lunga Anche perché altrimenti moriremo Iniziamo con la parte facile Ok, ok, va bene, ogni volta si alzerà La parte facile sarà mille, poi duemila e poi cinquemila Ok, un animale che ha un corno Non lo so, l'unicorno L'unicorno, anche io ho messo unicorno No, già, non perché hai messo unicorno? Eh vabbè, non esiste male Quali altri animali hanno un corno, scusa? Eh, aspetta, rinoceronte Ah, era anche più lunga rinoceronte Ok, qualcosa che tu ricarichi regolarmente L'iPhone Smartphone Eh sì sì, questa parola lunghissima Altro che iPhone Smartphone Certo, certo Io preferisco la qualità Cosa c'è? Tra è sempre uno smartphone Ok, quando i bambini Eh, quando è che i bambini chiudono gli occhi? Eh, di solito Mentre dormono Però non so se posso chiudere questo Ho scritto la fase più lunga del mondo Cosa hai scritto? Io ho scritto dorm Sleep Ora vedo Io ho scritto dormire Ti ho nascondito Perché quando conti Quando sconti Ti devi chiudere gli occhi Oh mio Dio Sei stata molto brava In quale posto troviamo un Come si chiama? Un ascensore Un ascensore Un ascensore Eh Vabbè Io direi che Di solito nelle case, ok? Io ho messo ospedale Io ho messo ospedale Io ho grattacero Ok Che cosa mettiamo nel freezer? Eeeh Non ho tante idee Questa era una parola Di dieci blocchi Io ho messo vegetali Io ho messo carne Corna A quattro letterine Eeeh Mi dispiace Sono più in alto di te Eeeh Come faccio? Ancora per poco Ok Un tipo di costruzione Dove sembra che ci sia sempre freddo Oh Eeeh Come si chiama? Un glue Anche io ho scritto il glue Eh ma E' piccolissimo il glue Dov'è che fa sempre freddo? Forse è una cellula frigorifera Oh mio dio Ro Ro Stai per perdere Qualcosa Non è bello Che si trova vicino al bagno Eeeh Vicino alla vasca da bagno Vicino alla vasca da bagno Eeeh Ho un'idea Ti prego dimmi Sì 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 Ho messo shampoo Come si è un Io ho messo paperella Oh mio dio Oh mio dio Una lettera a testa Questo Oh mio dio Questo Oddio Qualcosa che potresti bere Mettiamo questo Secondo me vinco eh No Solo due blocchi No Ho messo sparkling water Io ho messo acqua frizzante Mi ha preso solo acqua Io ho messo te Io ho messo Ma come ha vinto Ho vinto No ragazzi Non ha senso Non ha senso Guardate nei commenti Ero anche più in alto Di un blocco io Non ha proprio senso Guarda Guarda Che bella che sono Perché ride quella Zero rispetto Normale Ok ora Sì siamo alla difficoltà normale Qualcosa che i bambini Si mettono in fila per la scuola In fila per qualcosa Mi viene solo a pranzo A me non l'ha messo Che sei scarsa Perché non l'ha messo Ok ti ricordo 2000 robux qui Di qualcosa Qualcosa che faresti di fronte A uno specchio Ok Ho messo Ho messo Però era un po' Qua cortina come frase Tu cosa hai messo Niente Nulla Come niente Nulla Spazzolano i capelli Scusa tu cosa fai davanti Io ho messo pranzo No io volevo mettere Spolverare Però no Un nome per un libro Eh un nome per un libro Non funziona Io ho messo storia No Stavolta perdi subito Proprio subito Non è vero Ok Un animale Da fattoria Da fattoria Eh Messo Vediamo Eh Ce ne sono tanti Da fattoria Ho messo cane E non è andato Non ci credo No Siamo parte Entrambe di nuovo Ho vinto E hai vinto tu No no basta Basta Questa la rifacciamo Sì questa la la rifacciamo Un animale da fattoria Sono tutte e tre lettere Scusa Cow Dog Cat Pig Mucca Cow Tre lettere Hai ragione Vabbè Sono stata più brava io lo stesso Quindi Alla faccia tua Allora facciamo hard Coraggio va Sono già tre mila robux Questo vuole cinquemila Eh ma devi dare Poi otto mila se vinco Ok O se hai vincito Ti devo dare tutto indietro Oh mio dio Un film della pizzer Questa è facile Eh no questo è della disney Ok ok otto blocchi Otto blocchi Eh vabbè metteremo questo perché non mi viene Davvero io ho messo due storie Io ho messo due storie Volevo mettere Buzz Lightyear ma Eh quello non è il film Un tipo di trasporto Eh vabbè ce ne sono tanti Eh però questo è un po' corto Ok io provo a mettere questo Sono altri otto blocchi È bellissima La mia sono cinque Io ho aereoplano Aereoplano Brava brava Oh mio dio Forse lo sai che ho una parola più lunga È elicottero Una professione che inizia con la T Eh Oh Vediamo se funziona questo Come no non è vero Non lo so mi viene solo professoressa Ok io ho messo terapista Volevo mettere capotreno ma Eh non so come si scrive Io volevo mettere Tammaturgico Ma non mi ha fatto mettere Il nome di un oceano Eh Pacifico Tu non mettere Pacifico Atlantico Non mi fa scrivere Non mi fa scrivere Cioè Ro Sbrigati Non mi fa scrivere Oh mio dio Aspetta ti prego solo 5 mila bobos Non mi fa scrivere No 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 Allora Uno dei paesi più grandi del mondo Eh Paesi Paesi Secondo me è questo Uno dei paesi più grandi del mondo Non l'ho messo Era Russia Almeno Russia potevo metterlo Non l'ho perso comunque Oh mio dio Hai perso Non è rimane solo uno No Una religione Se quello ti imbatte Buddismo Non vale Posso No come si scrive buddismo Eh non lo so Come si scrive buddismo Eh Chiediamolo a Buddha Induismo Qualunque cosa ho messo Non ci credo Comunque ho vinto Ho vinto io No Eh sì Vabbè Tutti i Robi sono adesso Sì sì Primo terzo posto Sono Robi No Robi Ho palesemente vinto io Guarda Non è vero Ok ma palesemente ti ho battuto Sei morta un quarto d'ora prima La Russia vince tutto Sempre difficile Ok difficile Comunque guarda Non c'è scritto Non me la lascia la vittoria Ah non c'è scritto sulla tua testa vittoria Contra altre persone Un gioco di carte Eh no Pokémon Anche se lo so Anch'io ho scritto Pokémon Mannaggia a te Anche Yu-Gi-Oh è più lungo o no? No Neanche Magic No Nemmeno Magic Yu-Gi-Oh Credo nel cuore delle carte Ok una profissione che starta per Dio Adesso Adesso compro un indizio Io metto sempre lo stesso Dai sei secondi eh Cinque Quattro Tre Due Mi ha messo una parola lunghissima Che non ho idea di che cosa sia però Ma che cacchio Allora qualcosa che vive sotto il suolo Sotto terra Eh Eh non Ho l'ultima È l'unica cosa che Anzi no No non me la fa mettere No raga non ne ho idea Ho preso pure il Non me la fa mettere 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 Un evento atletico Oddio Atletico non è calcio giusto? Penso anche Non lo so Non me la fa mettere No raga non ce la posso fare Non me la fa mettere A me si Ma non riesco a mettere niente Che ci sia Un termine che Che inizia con Fatina Ce l'ho fatta No cosa hai messo? Fairy Tail Grazie Storia di fate No 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 Sì Ho vinto Non ci posso credere Oh mio Dio Dopo tre parole che non ho messo Passiamo pari Io ho vinto la hard Siamo una mura Io un'altra non la farei Sei coraggio Se sei così brava come dici no? L'ultima L'ultima Se sei brava così come dici Ti mostro da tutti che sei quella più forte Ok è l'ultima Ci sta Ci sta Dai infatti Normal hard 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 Era tutto pari quindi non lo so Ok Vediamo vediamo Un colore Che colore hai messo? Che è uguale al mio Io ho messo giallo Oh Oh Questa qui mi copia Questa qui mi copia Eh sì Certo Adesso pure mi copia Ti faccio vedere quanto sono più forte di te Un'attività da fare fuori Questo Guarda Jeff Guarda i miei blocchi Come hai fatto? Guarda Le ho scioppati Sta scioppona Comunque ho messo Gardening Brava Eh Ok qualcosa che le persone fanno quando sono felici Mangiano Eh Festeggiano No Non lo so raga Quattro lettere Cantano ho messo Io ho messo mangiano Mangiano Tre lettere Ancora peggio Non importa Non importa Quando chiudono gli occhi Ah Ti copio la roba di prima No Eh sì Eh sì Ti ho dovuto copiare la parola di prima Eh copiona Eh certo Nascondino Eh non hai fantastia Eh scusami Beh io non l'ho copiato da nessuno L'ho copiato da me stessa Perché sono intelligente Sì sì Oh aspetta Il nome è di una principessa disney Sì io ne ho una anche bello lungo Tieni Eh io sono quella fissata con la disney Eh aspetta aspetta Come si chiama Quella che piace a me con l'arco Dai l'aiuto merita Vai vai Ma Ma me l'ha presa Ma come puoi non prendermi merita Io ho messo la punzel Eh Quali sono i colori primari Vabbè questo non è che è Ma così piccola la tua folarina Che colore hai messo? Io li ho messi tutti a tre E mi ha preso quello più piccolo A me ha preso arancione Quindi penso tipo i colori più pali Arancione Arancione non è un colore principi Primario Eh me l'ha messo Ehm Un qualcosa che è dentro un hamburger Ehm Dimmi Dimmi che me lo prende C'è salvati eh Vabbè niente Non ce l'ha fatta Stavo scrivendo cheese Eh ce l'ho fatto Sono ancora contro questo tipo Potrei perdere Attenzione Eh vabbè Non vale ormai Eh dove Un posto dove stai in silenzio Ah vabbè Un posto Libreria Library Hospital L'ospedale Non si sta in silenzio Vedi che se perdo conto di lei Anche poco fa Io ti devo dare i punti a te Sia così Oh mio dio Ha saltato Ha saltato Oh mio dio Raghi Ditemi voi Chi deve ottenere i Robux Se io ho Roby E chi delle due ha vinto Io non mi arrendo comunque Ah ho una vittoria anche io Guarda sopra la mia testa Guarda sopra la mia testa C'è una vittoria Guarda sopra la mia testa